Non so se baserà perché la safette è andata bene, il Biden che noi abbiamo visto anche nelle immagini che voi avete appena mandato era esausto, era completamente esausto, quindi la decisione di mollare è più che giustificata. Kamala Harris è un personaggio completamente diverso da Biden, questo dobbiamo dirlo, Biden era stato scelto perché era quello che in Italia chiamiamo un moderato e quindi rappresentava lo schieramento democratico dal centro. Kamala Harris era stata scelta al suo tempo proprio per mettere un'iniezione di radicalismo in questa coppia di candidati. Non credo che lei rinuncerà a essere com'è e quindi i sondaggi di questi giorni secondo me registrano la sorpresa, ma la campagna elettorale è molto lunga e quindi vediamo un po' che succede. Certo gli attacchi che gli fa Trump, anche questi ultimi che abbiamo visto, lasciano intendere che lui un po' di timore ce l'abbia, avrebbe preferito mille volte che Biden restasse. La narrativa contro Biden era tutto sommato più semplice, tra i due quello giovani era Trump, però nel frattempo...